Ciao, sono Massimiliano ed eccoci arrivati all'ultimo esercizio dei 12 esercizi del monaco Shaolin per trasformare dentini e muscoli. Allora, questo esercizio ci lascia con un buon gusto in bocca perché ci streccia tanto la schiena e le gambe, quindi tutta la catena cilentica posteriore. Vediamoli insieme, arrivi dal profondo inchino e incroci le dita in questo modo e inspiro, espiro e distendi al massimo, dopodiché inspiro, espiro, cerca di toccare per terra le mani. Allora, ve lo faccio vedere, laterale è importante, inspiro, espiro, drizzi e guardi avanti, poi rilassi, inspiro, laterale, appoggia, espiro, guarda dietro e drizzi le gambe. Rilassa, rilassa, di nuovo centrale, spingi, espiro, vieni su il più possibile, rilassa giù, ancora dall'altra parte, cerca di arrivare qui poi, inspiro, espiro, guarda dietro, rilassa. L'ultima volta, l'ultima volta, giù, metti bene le mani, espiro, distendi, rilassa, inspiro, espiro, vieni fin qui, inspiro, espiro, calma l'energia. Facciamo anche il saluto e mente, cuore e rispetto. Molto bene.